Partito! Wow, ragazzi, com'è stato? Bene, bene, bene! Guarda! Il vestito! Che bello! Guarda quello! Qual è proprio questo? Questo mi stanno bene! Questo? Sì! Eh, ma anche a me questo mi piace, ma quello non viene, bianco no, non mi piace. Anche questo. Questo no? Magari dopo vengo a comprare. Vabbè, per la costa io. Guarda qua, che bello! Carino! Anche questo! Vabbè! Che cosa lavoro? Io sono studentessa e non lavoro. Perché non sono venuta ieri a lavorare? Sì, perché sono andata a scuola. Ecco perché. Ah! Grazie! La viste, ragazzi? Ma che è? Sì! 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 Sì!